Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo fermato due splendide ragazze che si trovano molto in forma e chiediamoli cosa facciamo. Ciao, Erika Lele. Ciao, mi chiamo Lecizia. Perfetto, cosa fate nella vita? A livello lavorativo? A livello sportivo. Oppure parlavamo a livello sportivo, body pump, training, e poi dipende perché l'esercizio fisico varia come tu sai, come tu mi insegni dalla stagione, dalla predisposizione che abbiamo noi corporea, alimentazione. Perfetto, perfetto, va benissimo. E invece tu che ci dici riguardo al fitness? Io ho una passione per il fitness da piccola, da 8 anni di età io mi agenzito, dipendendo da dove sto io l'improvviso. Se sto sulla palestra faccio i pesi della palestra, tutta attreziatura, se non a casa, abdominale, i pesi che ce l'ho io a casa, anche sulle gambe, il segreto è non avere male la difficoltà. Benissimo, benissimo. E invece ecco, mi dicevi prima che lavoravi anche in una palestra all'estero, dove ti hai deciso? No, sì, ho lavorato in una palestra, io mi occupavo di tutto ciò che è business, vendite, si portavano insomma i clienti e poi di lì dipende, aiutavamo le persone a mantenersi in forma oppure a mettersi in forma, quindi avevamo tutto. Cosa ti ha colpito di più in quell'ambiente? Che cosa è la cosa che ti è piaciuta di più? Beh, l'ambiente del fitness è sicuramente un bellissimo ambiente per lavorare. Devo dire che mi trovavo ad avere sempre meno tempo, ora che non lavoro più in palestra ho molto più tempo per me stessa per allenarmi. E questo è vero, anche perché io mi occupavo di vendite, in ufficio, del business, in tutto quello che è marketing, quindi insomma il tempo davvero concreto per l'allenamento mancava. La mia passione per il fitness mi ha portato a cambiare lavoro. Benissimo, grazie per la vostra collaborazione, state gentilissime e buon proseguimento. Ciao, grazie.